Tutti e sei beviamo due o cinque vino? Tutti beviamo? Beh no, allora in cinque. Ma hai rotto? Bevi vino? Io no, grazie. Allora siamo in quattro. Quattro? Non mi piace il rosso. In cadetta? Beh ma un messaggio. Me lo faccio. Tu dici? Si vede che è al inizio. Devo renderlo più importante. Centuarlo. Ci sto lavorando con caldo. La cosa fastidiosa è che cresce qua. Mi viene sul labbro. Passo davanti per Mosso. La cosa fastidiosa è che cresce qua. So money. Puoi essere. Puoi essere. Grazie. Grazie mille. Grazie. Signori, a questo ritrovo... Acqua. A Natale. Ma cosa? È Natale? No. È la vita. Ma... L'agio è per togliere l'aria. L'agio è per filtrarlo da eventuali briciole di sughero. Sì, vabbè. Questo è appena sfornato, questa è la lievitazione di oggi pomeriggio, abbiamo della piccola frutta secca nel cuore, ma è una farina proprio così, un vecchio mulino della bassa bergamasca, è una farina tipo 3 e ha questa, questa... Diciamo così, aggiunta particolare di semi. Grazie.